A Isola Verde, in un parcheggio libero segnalato da segnaletica orizzontale bianca, da mercoledì stanno campeggiando due camper. Esattamente in via Nettuno, tra i due camper hanno lasciato uno spazio sufficiente per posizionare i tavoli per poter mangiare all'aperto. Questi turisti, che non pagano nulla, occupano quattro posti auto e urinano all'esterno del camper. Le forze dell'ordine sono state chiamate da alcuni residenti, ma nessuno a sabato sera era passato a controllare. Da notare che a Isola Verde un parcheggio riservato ai camper esiste, a pagamento, ma ci sono turisti come questi che non vogliono spendere neppure un euro per il soggiorno e quindi si accampano su posti liberi non in regola con le norme vigenti, creando disagio ai residenti. La sera precedente i camperisti avevano organizzato un'arrostita all'aperto tra i due camper, a fianco delle abitazioni. Sono questi i turisti che vogliamo? Sarebbe il caso che le segnalazioni dei cittadini venessero ascoltate? Sarebbe il caso che le segnalazioni dei cittadini venessero ascoltate? Sarebbe il caso che le segnalazioni dei cittadini venessero ascoltate?